Questa la sera e questa la mattina dopo. Tutto qua? Se solo la quarta settimana puoi fare tutto da casa. Poi devo tornare? No, prendi le pillole ed è tutto finito. Gabiana, ovviamente se vuoi parlare con qualcuno per accompagnarti in questa decisione... No, grazie, ho già deciso. Rivederci. Ciao fa, scudo il ritardo. L'appuntamento era alle tre, sono alle quattro e mezza. Lo so, lo so. Chi ci vuole trimpiccio in studio. Andiamo, dai. Ho già finito. Vada bene? Ma stai fatto? No, ma che stai detto? Ti sei fatto il giorno che mi dovevi accompagnata alla ginecologa. Oh, ti ho detto che sto bene, sto bene. Vabbè, che c'è avuto un periodo di merda. Morto pure botta, mi dovevo tirare su. Però dai, diamo se è un gelato e mi racconti tutto, vabbè? Mi so scocciata. De che? De te, de noi, de come viviamo la nostra storia. De la faccia da scema che devo fare sempre. Che coglione, che coglione che... Ah, ho capito, ho capito. Hai visto le storie di quello. Le storie? Sì, le storie. Ma te sei scemonito. Prima eri un bambino, adesso sei un bambino deficiente. Basta, io non te voglio vedere più. Sì, certo. Come sempre, non mi lasci, un po' torni, un po' mi rilasci. Sì, credici che torno. Sì, vabbè. Senti, io spero che tu parli con qualcuno, che ti fai aiutare. Perché io non ci starò più. Stai a scherzare? Lo so che stai a scherzare. Ciao, Nick. Vabbè, dai, parlamo un secondo. Oh! Ma vaffanculo sta cretina de merda.